Benvenuto al prossimo tutorial introduttivo su BSC Designer. In precedenza abbiamo parlato di come creare un nuovo account e di come preparare il software per il tuo team strategico. In questo tutorial parleremo del trasferimento di una strategia già esistente su BSC Designer. La maggior parte dei nostri nuovi utenti dispone già di una scorecard strategica. Nella maggior parte dei casi consiste in un foglio di calcolo con molti dati di valore. Potrebbe essere simile alla scorecard che ho in questo foglio. Qui ho 4 prospettive. All'interno di ogni prospettiva ci sono alcuni obiettivi strategici. All'interno di ognuno di essi poi ci sono altri obiettivi ancora più dettagliati. Gli obiettivi poi sono allineati ad alcuni KPI. E per alcuni obiettivi KPI esistono dei piani d'azione definiti con dei budget. Inoltre nel mio esempio i KPI hanno un peso, un'unità di misura, alcuni valori di riferimento, quindi delle baseline, dei valori storici per date diverse, così come degli obiettivi dei valori che ci aspettiamo di raggiungere. Questa scorecard è solo un esempio. Il tuo foglio di calcolo potrebbe essere anche meno complesso. Potrebbe avere un solo livello di obiettivi e nessun valore storico, ad esempio. Trasportiamo questa scorecard dal foglio di calcolo sul software. Devo selezionare il menu degli strumenti e poi clicco sull'opzione Importa i valori degli indicatori. In questo caso ci interessa l'opzione Importa da un documento Excel, in cui posso caricare un foglio di calcolo. Oppure posso selezionare l'opzione Importa da file di testo e semplicemente copiare ed incollare i dati. Il software mi mostra il contenuto all'interno del foglio di calcolo. Le colonne nella tabella dei dati hanno colori diversi. Ciò è dovuto al fatto che il software ha riconosciuto alcune colonne in base al loro contenuto. Ora il mio obiettivo è far coincidere le colonne nel foglio di calcolo con le proprietà degli elementi in BSC Designer. Alcune colonne sono state assegnate automaticamente, altre invece devono essere selezionate manualmente. Ad esempio, qui il software ha scelto in modo corretto che si tratta di un insieme di prospettive. Qui abbiamo degli obiettivi di primo livello, qui degli obiettivi di secondo livello, qui abbiamo degli indicatori, quindi seleziono nome dell'indicatore, qui abbiamo un insieme di pesi, qui delle unità di misura, in questo caso ho una baseline, qui il software ha scelto correttamente che si tratta di tre colonne che contengono dei valori, qui invece abbiamo obiettivo, qui delle iniziative, e infine qui bisogna selezionare budget. In alcuni casi potresti avere molte proprietà dei KPI da importare. Puoi aggiungerle su BSC Designer tramite l'opzione dei campi personalizzati che si trova nelle impostazioni nella scheda del workflow. Una volta aver associato le colonne, clicca su successivo e visualizza l'anteprima dei risultati. Clicca di nuovo su successivo e se stai pianificando di importare altri dati da dei fogli di calcolo simili, per salvare il profilo di importazione usa questa opzione. Clicca poi su Termina. Ora tutti i dati del foglio di calcolo sono su BSC Designer. Qui abbiamo gli obiettivi aziendali, i KPI, le iniziative. Troviamo ad esempio l'indicatore della percentuale degli account attivi. Qui posso vedere che l'iniziativa e il relativo budget sono stati importati correttamente. Posso anche cliccare sull'editor dei valori e controllare che tutti i valori e l'obiettivo siano stati importati correttamente. Passiamo alla scheda della mappa strategica. Come puoi vedere è stata generata automaticamente utilizzando i dati del foglio di calcolo. Potrei aggiungere alcuni collegamenti, ma le parti principali sono già qui. Qual è il vantaggio di avere una scorecard di questo tipo in BSC Designer e non nel software per i fogli di calcolo? Con un software specializzato puoi utilizzare alcune funzioni avanzate specifiche. BSC Designer esegue tutti i calcoli in modo automatico. Infatti, normalizza gli indicatori, calcola le prestazioni per gli obiettivi e tiene conto dei pesi degli indicatori. Inoltre, il software è stato progettato pensando a un team strategico, quindi puoi assegnare dei diritti di accesso flessibili e tenere traccia dell'attività degli utenti. Ad esempio, se gli obiettivi per alcuni KPI sono stati aggiornati, il software terrà traccia delle modifiche che sono state introdotte. Inoltre, sono disponibili varie funzioni di notifica. BSC Designer può inviare dei report programmati sulle prestazioni, può avvisare i proprietari delle nuove iniziative aggiunte, oppure può ricordarti degli indicatori che non sono stati aggiornati in tempo. Come puoi vedere, importare una scorecard su BSC Designer è facile. E se la strategia non è ancora stata definita e il tuo team ha quindi bisogno di alcune direttive per progettarne una che sia davvero efficace, ne abbiamo parlato in un altro video tutorial all'apposito.